Naranonne Chi me l'ha fatta in testa? Salani, editore Una sera, quando come al solito la piccola talpa mise la testa fuori dalla tana per controllare se il sole se n'era andato, ecco cosa successe. Era rotondo e marrone, pareva un po' una salsiccia e il peggio fu che le cadde proprio in testa. Splip! Ma che schifo! esclamò la piccola talpa. Chi è che me l'ha fatta in testa? Mio pecomera non poteva scoprirlo da sola. Di un po', piccione! Squitti, sei tu che me l'hai fatta in testa? Io? Ma no, figurati! Io la faccio così e sprush! Uno sprezzo lattiginoso schizzò proprio davanti alla piccola talpa, picchiettandole di bianco la zampa destra. Ehi, cavallo! Sei tu che me l'hai fatta in testa? Io? Ma va! Io la faccio così e puff, puff, puff! Bombardò l'erba di cinque grosse e grasse pallottole. La piccola talpa ne fu molto impressionata. Hola, lepre! Sei tu che me l'hai fatta in testa? Io? Ma su via! Io la faccio così e pitt, 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 cinquanta pisellini crepitarono alle orecchie della piccola talpa, che fece un salto indietro. Senti un po', sei tu che me l'hai fatta in testa? Chiese la piccola talpa a una capra mezza addormentata. Io? Ma che? Io la faccio così e cland, 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 una quantità di gnocchetti color cioccolata capitò un volo sul prato. La piccola talpa li trovò molto carini. Di! Su, mucca! Sei tu che me l'hai fatta in testa? Io? Ma che dici? Io la faccio così e papattàf! Un'immensa focaccia verdastra si depositò mollemente al suolo. Che fortuna che non è stata lei a farmela in testa, pensò la piccola talpa. Ascolta, maiale, sei tu che me l'hai fatta in testa? Io? Ma quando mai? Io la faccio così e... Proiettò Monticello Bruno e molle sul campo. Ble! La piccola talpa si tappò il naso. Voi! Laggiù siete voi che... Cominciò la piccola talpa. Ma quando si avvicinò, vide solo due grandi mosche nere che stavano abbuffandosi. Finalmente qualcuno che se ne intende, pensò la piccola talpa. Chi può avermela fatta sulla testa? Me lo sapete dire? Sussurrò. Così. Non muoverti, ronzarono le mosche. E dopo un attimo, non c'è dubbio, è stato un cane. Finalmente la piccola talpa sapeva chi era quel disgraziato che gliel'aveva fatta in testa. Gian Maria, il cane del macellaio. E ora, vendetta, tremenda vendetta. Veloce come il lampo, la piccola talpa si arrampicò sulla cuccia di Gian Maria. E, pling, spedì una minuscola salsiccetta nera sulla testa del cane. Ecco qua! Felice e soddisfatta, la piccola talpa si infilò sottoterra, dove nessuno gliel'avrebbe potuta fare in testa.